Nel miglior amico dell'uomo, in moltissimi casi, è un vero e proprio membro della famiglia, dal quale non separarsi neanche nei giorni festivi. E siccome spesso capita che il nostro amico a quattro zampe non possa andare negli stessi luoghi dei suoi padroni, ecco che la protezione civile Augustus, che da qualche tempo gestisce il Parco delle Rimembranze a Vibo Valencia, ha organizzato un pomeriggio da trascorrere tutti insieme, durante il quale si è svolto un raggiuno cinofilo aperto a cani di razza e anche a emetici, che troppo spesso rimangono esclusi da qualsiasi tipo di competizione. È un effetto un raduno per l'appunto di cani, di chiaramente non solo cani di razza ma comunque anche emetici, amatoriale, nel senso che noi cerchiamo di avvicinare al mondo anche della protezione civile attraverso un raduno di cani, perché voi sapete perfettamente che i cani comunque sono impegnati in tantissime operazioni di protezione civile e quindi noi attraverso il gioco, attraverso l'attività ludica, cerchiamo di avvicinare le persone e gli animali al nostro mondo. Ci sarà comunque una gara con dei giudici e dei vincitori? Sì, esattamente, ci sarà una gara con dei giudici e dei vincitori, chiaramente saranno anche giudicati non ufficialmente, ma comunque dei giudici competenti, dell'ENCI a tutti gli effetti, che praticamente verificheranno in funzione delle categorie, praticamente assegneranno fondamentalmente una classifica e poi chiaramente tutti saranno premiati, tutti avranno un ricordino. Questo è un momento ludico, un momento gioioso, che serve comunque avvicinare il mondo della cenofilia al mondo della protezione civile. La fortuna è quella di avere dei ragazzi che praticamente si interessano, dei ragazzi per modo di dire, comunque delle persone che si interessano nell'attività ludico-forme ricreative, ma a tutti gli effetti poi appunto avvicinarli al mondo operativo della protezione civile.